Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. Torniamo a parlare del caso di Legionella ad Arezzo. L'ASL faccia chiarezza, dirlo è il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, in seguito al secondo caso di Legionella che ha causato la morte di una donna e chiede che l'azienda sanitaria abbia più accortezza nelle informazioni fornite al primo cittadino in casi simili. A stretto giro di posta risponde anche l'azienda sanitaria. Ci ricostruisce tutto in questo servizio Greta Settimelli. Preoccupa il caso di Legionella, il secondo che ha interessato il territorio aretino in poche settimane. La donna che l'ha contratta, una signora che aveva meno di 60 anni, è poi morta all'ospedale di Arezzo, arrivata al nosocomio già contagiata, afferma una nota dell'azienda sanitaria. Era ospite del reparto di cure intermedie della casa di cura San Giuseppino Sanità in via Saffi ad Arezzo, che in una nota ufficiale esclude che il contagio possa essere avvenuto nella struttura e anzi precisa che le prescrizioni e i controlli richiesti poi con l'ordinanza del sindaco del 3 febbraio erano già stati effettuati e non vi era alcuna presenza del batterio. Vista la pericolosità della Legionella, è il sindaco di Arezzo ad esortare l'ASL dunque a fare chiarezza sulla catena del contagio. Il testo unico degli enti locali che pone in capo al sindaco la responsabilità della salute dei cittadini, ma pone in capo un terzo soggetto che è l'azienda sanitaria il tema della sanità, diciamo così definita. Tra l'altro il sindaco non ha nemmeno competenze, ma né lui personalmente e nemmeno ha una struttura all'interno del comune per poter gestire il tema salute e il tema sanità. Quindi si deve affidare necessariamente all'azienda, ma l'azienda bisogna che, io lo dico pubblicamente, abbia un maggior riguardo per quello che riguarda, scusate il bisticcio di parole, la circolazione di informazioni. Non soltanto, perché sennò sembra che il sindaco emette solo ordinanze quando l'ASL gli chiede di emetterle. E effettivamente così è, ma così non deve essere, perché il sindaco deve essere preventivamente informato e forse valutare insieme all'ASL se i provvedimenti che vengono presi sotto la legida scientifica medica, ma visti da un punto di vista più della diffusione della malattia, sono sufficienti o meno, visto che io sono il responsabile. E proprio in merito a questo arriva un'altra nota dell'ASL Toscana Sud-Est. L'attività svolta, si legge, dalla Struttura di Igiene e Sanità Pubblica della ASL sul caso, è stata inviata tempestivamente al sindaco di Arezzo, tant'è che lo stesso ha esercitato le funzioni previste, quale autorità in materia di salute pubblica, con l'emissione dell'ordinanza finalizzata a prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica. Nella nota inoltrata dalla struttura sono stati riportati tutti gli accorgimenti necessari sulla base degli accertamenti effettuati. Non è invece possibile, chiude la nota, fornire al sindaco ulteriori informazioni, tra cui quelle sul decesso di una paziente e sulle cause che l'hanno determinato. Materia quest'ultima, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, a cui la Struttura di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Toscana Sud-Est ha già notificato l'accaduto. Il Tribunale di Arezzo ha condannato l'azienda sanitaria toscana Sud-Est a mantenere la bambina nata da una donna che aveva deciso di sottoporsi alla chiusura delle tube per evitare ulteriori gravidanze. La madre, dopo il terzo parto, aveva optato per la contraccezione chirurgica per scongiurare la nascita di un ulteriore figlio. Due anni dopo l'intervento, effettuato presso l'ospedale di Grosseto, ha scoperto però di essere nuovamente incinta. Nove anni dopo la nascita della bimba, la ASL, citata in giudizio dai genitori, è stata condannata a risarcire la coppia. Dovrà provvedere al mantenimento della figlia fino al compimento del suo 25esimo anno di età, con 450 euro al mese, pari a 135 mila euro complessivi. In una nota, l'azienda sanitaria nel prendere atto della sentenza del Tribunale di Arezzo dice che sta valutando la possibilità di impugnare la sentenza, di proporre ricorso in appello e di chiedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. Ancora cronaca, un uomo è scomparso da due settimane da Palazzo del Pero. Vediamo il servizio di Chiara Sadotti. Ricerche a tappeto in provincia di Arezzo, nella zona che va da Palazzo del Pero, alle ville di Monterchi, di un uomo, una 53enne tedesco, scomparso nel nulla. Dell'uomo non si hanno più notizie da due settimane. Originario della Germania è residente nella zona di Palazzo del Pero. A lanciare l'allarme giovedì 16 febbraio, alle forze dell'ordine, è stato un amico, un connazionale, che ha riferito che il 53enne da qualche tempo non si era più fatto vivo. Venerdì mattina sono così scattate le ricerche partite dall'abitazione dello scomparso. A coordinare le vigili del fuoco, alzati in volo, anche i droni dotati di termocamera. Le ricerche, portate avanti anche dai carabinieri, proseguiranno nei prossimi giorni. Al momento nessuna pista sarebbe esclusa. E adesso torniamo a parlare della discarica di Podere Rota, perché oggi c'è stato un duro attacco del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, che ha attaccato la regione toscana Rea di non volere, a suo parere, rinunciare all'impianto di Podere Rota, perché impianto indispensabile per lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto dell'area fiorentina. È evidente il completo fallimento delle politiche regionali, tuona Chiassai in materia, e il volontario sfruttamento del nostro territorio per non creare dissenso su Firenze e zone limitrofe. Il 23 febbraio il Comune di Montevarchi parteciperà alla prima riunione della conferenza dei servizi relativa all'adecuimento volumetrico della discarica di Podere Rota, continuando ad avere una netta posizione di contrarietà al progetto. E con lo stop del Governo allo sconto in fatture e all'accessione crediti, la filiera delle costruzioni è a rischio. A dirlo è la Confartigianato di Arezzo. Ascoltiamoli. Il Governo ci aveva rassicurato su una soluzione che risolvesse il problema dei crediti incagliati. Invece non solo non si prospetta nessuna risposta al problema, ma il Governo blocca con un decreto dell'ultima ora, tranne i limitati casi, la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura o accedere ai crediti. Così il segretario generale di Confartigianato Arezzo, Alessandra Papini. Il blocco previsto nel decreto legge, dice Papini, coinvolge le tante imprese che, sulla base delle norme sinora vigenti, hanno effettuato investimenti e assunzioni nella prospettiva di poter continuare ad operare garantendo lo sconto in fattura. Con buona pace degli obiettivi green che la misura avrebbe aiutato a raggiungere. A questo punto va trovata assolutamente una soluzione per i cantieri aperti o assisteremo ad una vera e propria ecatombe di imprese della filiera costruzioni con danni irreparabili per l'occupazione con un'incidenza sul PIL incalcolabile. Ci stiamo raccordando con i vari livelli per incontrare urgentemente i rappresentanti del Governo e discutere una via d'uscita volta alla salvaguardia delle nostre aziende. E ora vi raccontiamo la storia di Gaia affetta da una grave e rara patologia medica. Gaia il padre Roberto Russo ha lanciato una raccolta fondi attraverso la vendita di un braccialetto grazie all'associazione Progetto Mitofusina 2. Ascoltiamolo ai microfoni di Greta Settimelli. Braccialetti colorati per aiutare la ricerca. L'idea è di Roberto Russo un uomo che vive con la sua famiglia a Subiano in provincia di Arezzo una delle due figlie, la più piccola è affetta da una malattia rara. Sì, Gaia è affetta da CMT2A una malattia rara talmente rara che le case farmaceutiche appunto non investono perché essendoci pochi casi praticamente si sa come funziona il mondo quindi è lasciata un po' da parte. Quindi ci siamo associati da cinque anni a questo progetto Mitofusina che non è altro che praticamente un gruppo di genitori insomma di persone che stanno investendo in dei ricercatori all'ospedale Dino Ferrari di Milano con la ricerca sulla CMT2A la Mitofusina 2 e chiaramente questo ha un prezzo all'anno di 30-32 mila euro l'anno che dobbiamo tirare fuori noi di tasca. E così questo babbo si è inventato un gadget un braccialetto colorato appunto per raccogliere fondi e trovare una cura ad una patologia rarissima che costringe Gaia dall'età di 10 anni su una sedia a rotelle. Niente, praticamente detta un po' così perché scientificamente ancora non riesco a decifrare benissimo è una malattia neurogenerativa e praticamente colpisce gli arti inferiori del corpo quindi dal ginocchio in giù e dai gomiti in giù quindi Gaia all'età di 10 anni è seduta su una sedia a rotelle perché non avendo più sensibilità ha le gambe e ha difficoltà con le mani usa solamente il 10% delle mani quindi è una grave disabilità insomma quindi praticamente sono i nervi che si rovinano e non riescono a manca questa mitofusina insomma che sarebbe questa proteina che stanno cercando di trovare un modo di crearla insomma in un laboratorio e quindi servono questi fondi appunto per fare questa questa ricerca e sperare di riuscire un giorno a trovare questa benedetta terapia insomma ad oggi purtroppo ancora non c'è I braccialetti inutile dirlo sono andati a Ruba e adesso saranno venduti anche in alcuni negozi della provincia di Arezzo mi hanno già contattato 4-5 esercenti di Arezzo che comunque di Subbiano Capolona e anche di Bibbiena che mi faranno da praticamente da magazzinetto ma insomma nel senso che la gente può andare a ritirarlo direttamente là poi più avanti spiegherò magari sul profilo Facebook dove o chi mi scriverà dove possono andare a a prendere questo braccialetto insomma il bello è proprio questo che sono le persone stesse che creano degli eventi e mi contattano per per donare al progetto Mitofusina quindi per me è un grandissimo onore vuol dire che stiamo andando verso il verso giusto e tra l'altro tra in primavera con una palestra di Bibbiena dovremmo fare un progetto una giornata fitness insomma è bello perché insomma vuol dire che il messaggio sta arrivando e speriamo appunto che che si arrivi all'obiettivo insomma io colgo l'occasione anche per ringraziare sempre tutti perché veramente sono tanta 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 gente e non mi può fare altro che piacere a me e tutta la mia famiglia presenza tutta a retina gli Oscar Green dell'agricoltura italiana andati in scena questa mattina presso la sede della Confederazione Nazionale della Col di Retti in finale alla sedicesima edizione nella categoria Coltiviamo Solidarietà il progetto stasera Cucino Io educazione al cibo e abilità nella cucina nato dalla stretta e costante collaborazione tessuta negli anni tra l'Associazione Autismo Arezzo Col di Retti e Campagna Amica di Arezzo con alla base l'agricoltura sociale e sviluppato nell'ottica di un percorso volto all'inclusione e nella giornata nazionale dedicata al gatto siamo andati a conoscere gli amici felini meno fortunati accolti nella struttura comunale di Arezzo vediamo è stata investita aveva un trauma cranico e la frattura dell'omero ha superato il trauma cranico è stata operata all'omero e poi abbiamo scoperto anche essere incinta ha solo un gattino dopo il parto e dopo lo svezzamento saranno entrambi adottabili magari anche insieme sarebbe una bella adozione lei è Petunia una delle gatte accolte dal canile comunale di Arezzo la sua storia abbiamo deciso di raccontarvela nella giorno della festa del gatto il 17 febbraio ma come lei sono anche molti altri amici in cerca di famiglia accolti qui nella struttura comunale il gatto è un animale fantastico cioè veramente molto speciale il canile di Arezzo da anni si prende cura di gatti e gattini molti dei quali ancora in attesa di un'adozione trovati incidentati quindi feriti che vengono curati e poi vengono liberati nella nostra colonia o anche adottati per non parlare poi delle cucciolate di gattini che presto arriveranno e ci invaderanno l'obiettivo della giornata oltre ovviamente ad esprimere l'amore per i gatti è anche soprattutto per sensibilizzare all'adozione contro l'abbandono ma restano fondamentali anche le sterilizzazioni ancora il maschio non viene castrato perché poverino come si fa quando in realtà un maschio intero la vita di un maschio intero è breve perché comunque finisce investito lotta con altri gatti si ammala via I.S. leucemia feline che sono malattie mortali nel gatto e la femmina non viene sterilizzata e magari quando fa i gattini o ce li troviamo davanti alla porta in uno scatolone o magari vengono ammazzati quindi sì l'unico modo è sterilizzare 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 e proprio a proposito di Amici Felini domani sabato 18 febbraio alle ore 10 è annunciata ad Anghiari in Piazza del Popolo una manifestazione a sostegno del gattile gestito da Eleonora Iacono che è anche presidente dell'associazione La Gattara la manifestazione nasce per chiedere la sospensione dell'ordinanza di demolizione della struttura che getterebbe una ventina di gatti ancora senza una casa per strada la Iacono gestisce il gattile da sei anni si lotta per la tutela ai diritti degli animali ha spiegato la presidente essere senzienti che hanno diritto ad una vita unica e dignitosa con noi in questa causa si sono schierati animalisti volontari associazioni e persone da tutta Italia tante sono le telefonate di solidarietà e i messaggi di incoraggiamento per i nostri gatti e si rafforza l'attività edilizia dell'Università di Siena che riguarderanno anche la sede distaccata di Arezzo del Pionta finanziato per 2,3 milioni di euro di cui il 60% a carico del Ministero e il 40% a carico dell'Ateneo un importante intervento di manutenzione straordinaria di immobili della sede universitaria il complesso è composto da 4 edifici la palazzina dell'Orologio la palazzina ex-RAM la palazzina uomini e la palazzina donne il progetto prevede il consolidamento strutturale di una porzione della palazzina uomini attualmente inagibile e lesionata il restauro conservativo della facciata storica della palazzina orologio da riportare alla condizione originale dei decori e dei colori e la manutenzione delle coperture degli edifici con l'inserimento delle linee vita e l'ammodernamento dei servizi oltre ad interventi specifici per i singoli edifici e adesso un appuntamento si intitola dai forma alla forma giù la maschera storia divertimento e tanta fantasia sono gli ingredienti dei due appuntamenti per festeggiare il carnevale dedicato ai bambini in programma domenica 19 martedì 21 febbraio alle ore 16 e 30 alla casa Bruschi di Arezzo si inizia con una visita speciale del museo durante la quale verranno raccontate storie mostrate le maschere della collezione e oggetti a esse collegate come elmetti e copricapi a conclusione un laboratorio didattico in cui i bambini potranno realizzare un'originale e personalizzata maschera e per finire dolci e sorprese di carnevale il costo del biglietto è di 8 euro a bambino e si consiglia la prenotazione e adesso passiamo allo sport sabato l'Amen Scuola Basket Arezzo farà visita alla capolista Cecina test proibitivo per gli amaranto contro la corazzata sintetica vediamo partita da circoletto rosso per l'Amen Scuola Basket Arezzo che sabato alle 21 e 15 al Palapoggetti di Cecina sfiderà i padroni di casa della Sintecnica Cecina si trova al primo posto della classifica in coabitazione con Prato e Castelfiorentino guidata in panchina da Cocce da Prato ed in campo dagli esperti Bruni e Fattori attorno ai quali è stata costruita una squadra super competitiva Cecina si è già giudicata la Coppa Toscana poco più di un mese fa ed attualmente può vantare il miglior attacco e la miglior difesa del campionato questo per far capire le difficoltà a cui andrà incontro la squadra di Cocce Evangelisti sabato sera per poter impensierire i rosso-blu padroni di casa i ragazzi di Cocce Evangelisti sono quindi chiamati alla prestazione perfetta e il trofeo internazionale Davide Nuzzo è giunto alla nona edizione si svolgerà ad Arezzo dal 18 al 21 maggio prossimo la mission è riuscire a convogliare in questa vetrina i migliori talenti under 12 del calcio europeo 32 i team partecipanti per l'edizione 2023 di cui 16 saranno top club professionisti e 16 accademi elite di formazione dei giovani calciatori italiane e straniere il Davide Nuzzo coinvolgerà a maggio oltre 500 atleti e 100 tecnici provenienti da 8 paesi europei ed è stimato un flusso di circa 3.000 persone sulle strutture sportive e ricettive di Arezzo e vi ricordo che questa sera vi lasceremo in compagnia della terza puntata di canzoni e cabaret con il trio Roby Beppe e Marco Emireno Scali e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci Grazie a tutti